Vivo Valencia, quale provincia pilota del progetto nazionale previsto dalla legge cosiddetta della buona scuola che intende promuovere la formazione degli studenti per la conoscenza delle tecniche di primo soccorso. Il primo soccorso nella scuola italiana rappresenta una svolta importante del legislatore perché permette a 5 milioni di studenti all'anno di imparare a salvare la vita attraverso 4 competenze fondamentali il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo di emergenza delle emorragie immediatamente pericolose per la vita. È una rivoluzione che è partita dal popolo nell'anno del 2005. Abbiamo portato in Parlamento 93.000 firme e con la legge sulla buona scuola. All'articolo 1,10 di questa legge, che è la 107 del 2015, il legislatore recepisce i contenuti di una proposta di legge che ha visto la Calabria svolgere un ruolo importante con 30.000 firme e l'azione particolare di spinta propulsiva del dottorenzo Natale sulle 93.000 che abbiamo trovato in tutta Italia. Quindi abbiamo traguardato fondamentalmente un primato di civiltà, la difesa della vita. Considerate che negli anni a venire, pensiamo, in quanto 5 milioni di ragazzi verranno addestrati e ogni anno usciranno dalle scuole italiane, dalle secondarie di secondo grado 500.000 studenti in grado di fare la rianimazione e la defibrillazione precoce, pensiamo di abbattere di almeno un terzo nei prossimi 10 anni la mortalità d'arresto cardiaco improvviso, sottraendo alle casse da morto 24.000 italiani che oggi non ricevendo un soccorso inesorabilmente muoiono. Il punto è stato fatto nel corso di un incontro nell'auditorium della scuola di polizia con il sostegno della Fondazione Veronesi, Lions Club e l'associazione medica Vibo Emergency. La ministra Fedeli insieme alla ministra Lorenzin hanno voluto fortemente che questa legge venisse applicata con decreti attuativi, cominciando proprio a Vibo Valencia. Noi inizieremo su alcune scuole della provincia nel febbraio e marzo del 2018 e poi alla fine dell'esperimento faremo un report che consegneremo alle due ministri della salute e dell'istruzione e da questo poi esiterà un progetto che nel 2019 verrà in tutta Italia applicato. Cosa può cambiare da questo momento? La formazione vuol dire cambiamento, cambiamento vuol dire applicare alcune tecniche salvavita in alcune persone e chi più degli studenti che sono il futuro sindaco, il futuro cittadino, il futuro ingegnere, il futuro medico per portare avanti questo tipo di metodologia che poi è cultura dell'emergenza. Difatti il nostro motto è dalla cultura dell'emergenza alla cultura della vita.